Benvenuti a questo video tutorial sul tema della link building e link earning. Oggi esploreremo le differenze chiave tra queste due strategie cruciali nel mondo del SEO Search Engine Optimization. Capire queste differenze è fondamentale per migliorare la visibilità del tuo sito web sui motori di ricerca e aumentare il traffico organico. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questa interessante discussione. Definizione di link building, cominciamo dalla link building. Questa è una strategia attiva in cui tu e il tuo team cercate attivamente di ottenere collegamenti, o link, provenienti da altri siti web al tuo. L'obiettivo qui è quello di creare una rete di collegamenti che puntino al tuo sito. Questi collegamenti vengono comunemente chiamati backlink. La link building coinvolge spesso l'identificazione di siti web rilevanti nella tua nicchia e la negoziazione per ottenere link da loro. Questo processo può includere l'invio di email, la partecipazione a partnership e la condivisione di contenuti di qualità che potrebbero interessare agli utenti di quei siti. Vantaggi della link building I vantaggi della link building includono un maggiore riconoscimento da parte dei motori di ricerca, poiché i backlink sono spesso considerati come voti di fiducia da altri siti web. Questi collegamenti possono contribuire all'autorità del tuo sito e migliorare la sua posizione nei risultati di ricerca. Definizione di link earning Ora, passiamo al concetto di link earning. Questa strategia è più incentrata sulla creazione di contenuti di alta qualità e di valore che gli altri siti web trovano così utili o interessanti da condividere spontaneamente. In sostanza, guadagni il link in modo naturale attraverso il merito del tuo contenuto. Questo potrebbe essere un articolo informativo, un video coinvolgente, un'infografica ben fatta o qualsiasi altro tipo di contenuto che risuona con il pubblico di riferimento. Vantaggi del link earning Il principale vantaggio del link earning è che i link che guadagni sono spesso più autentici e organici. Poiché gli altri siti condividono il tuo contenuto di loro spontanea volontà, questi link portano un maggiore valore agli occhi dei motori di ricerca. Inoltre, il link earning tende a creare relazioni durature con altri siti web, poiché si basa sulla reciproca fiducia e apprezzamento dei contenuti. Conclusioni In sintesi, la link building si basa su un approccio più attivo di ricerca e negoziazione per ottenere link da altri siti, mentre il link earning si concentra sulla creazione di contenuti di qualità che attraggono link naturalmente. Entrambe le strategie possono essere efficaci, ma è importante trovare un equilibrio tra le due a seconda delle tue esigenze e del tuo pubblico di riferimento. Una buona pratica potrebbe consistere nell'utilizzare entrambe le strategie in modo sinergico per massimizzare il successo del tuo sito web nella sfera digitale. Grazie